Ciao, benvenuti su Cartisia! Oggi vi propongo l'insalata pantesca, una ricetta tradizionale dell'isola di Pantelleria. Questo piatto è un vero e proprio trionfo di sapori mediterranei. Un piatto colorato e fresco, con una base di patate lesse e pomodorini, cipolla, olive nere e capperi. Ragazzi, provatelo perché è una vera e propria delizia! Tagliate 80 g di cipolla rossa e poi la lasciate in ammollo per circa un'ora con l'aceto di vino bianco. Questo renderà la vostra cipolla rossa più digeribile, ma soprattutto anche più morbida. 700 g di patate lesse, 400 g di pomodorini, quindi tagliate le patate lesse e i pomodorini e li mettete all'interno della ciotola. Utilizzo anche 50 g di olive nere. Io non ho messo i capperi, però ovviamente la ricetta originale prevede i capperi. Se volete mettete i capperi, poi versate la cipolla, l'origano e l'olio extravergine di oliva con un cucchiaino di sale. Ragazzi, ecco qui la vostra insalata pantesca è pronta! Credetemi, è davvero buonissima, ma soprattutto facilissima da preparare. Vi aspetto sul mio canale YouTube Cartesia, troverete tantissime videoricette super golose. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube Cartesia e attivate la campanella, perché se attivate la campanella ogni volta che pubblico un video vi arriva subito la notifica. E quindi non perderete più neanche una videoricetta super golosa. Ciao e alla prossima! Ciao!